Progetti formativi per il personale operante all'interno degli asili nido del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni che nel corso dell'anno andranno a perfezionare le capacità professionali delle operatrici al fine di garantire piccoli un sempre più adeguato servizio educativo. Le attività formative in particolare saranno prevalentemente concentrate sui temi sociali. Si tratta infatti di una iniziativa che rientra nel più ampio progetto che ha come nome Violeta, dedicato dunque alla donna uccisa dal partner a Sala Consilina nel 2018. Presentato lo scorso 15 febbraio, il progetto, lanciato dall'Associazione Differenza Donna con il sostegno di numerose partner, tra cui la Fondazione Conil Sud, prevede la realizzazione di percorsi formativi dedicati alle educatrici dei dieci nidi del Consorzio Sociale S10 Vallo di Diano Tanagro e Alburni. Percorsi formativi di otto ore ciascuno, divisi in due pomeriggi che si ripeteranno nell'arco del 2024 per consentire a tutte le educatrici di partecipare agli incontri. Il primo ciclo di incontri è previsto nelle date del 29 aprile e 17 maggio presso l'Auditorium Comunale di Atena Lucana Scalo dalle ore 15 alle ore 19. Le attività si inseriscono nel panorama del più ampio progetto che avrà azioni e programmi di sensibilizzazione di genere nelle scuole di tutti i livelli per promuovere una reale prevenzione e dare forza a reti di cittadinanza attiva promuovendo le donne e la loro piena partecipazione. Tutto il progetto sarà accompagnato da un motore straordinario, le campagne diffuse di sensibilizzazione dove far sentire coinvolte e coinvolti tutti e tutte e realizzare una piena consapevolezza della cittadinanza e una conseguente affermazione dei diritti delle donne nella società. Grazie.